Salve di nuovo! Se stai guardando questo video, significa due cose. Uno, il nostro sistema Powerline funziona. Una o più delle persone nel tuo team ha già ordinato qualcuno dei nostri fantastici prodotti ed è diventata un fornitore o un cliente nella tua Powerline, dando a te l'opportunità di confermare ora la tua posizione e guadagnare dai suoi ordini. Inoltre, se loro decidono di creare un team, avrai la possibilità di venire pagato sugli ordini di chiunque nella loro intera organizzazione, ogni singolo mese. E il secondo significato del fatto che stai guardando questo video è sei molto vicino a perdere l'occasione. Uno dei più entusiasmanti aspetti di questo sistema Powerline e ciò che lo rende così potente è l'urgenza che crea e il modo in cui ricompensa chi ha l'astuzia e l'ambizione per decidere di partecipare. Ora voglio che tu guardi a questi due aspetti. Il primo e più importante, la tua posizione. Tu hai già almeno una persona nel tuo team che ha effettuato un ordine. È possibile che resterà l'unica persona nella tua Powerline a registrarsi e che tu guadagnerai solo 5 o 10 dollari sul loro ordine. Ma è anche possibile che molte altre persone nella tua Powerline divengano membri e che uno o più di loro inizino a lavorare e costruiscano una grossa organizzazione che potrebbe farti guadagnare molto di più. Noi non abbiamo alcun modo di sapere chi sarà il prossimo leader, chi costruirà un team o chi si limiterà a comprare prodotti. Quel che sappiamo è che tu decida o meno di creare un team che non hai assolutamente niente da perdere effettuando un ordine e confermando la tua posizione. Questo perché ognuno dei nostri prodotti di alta qualità garantisce risultati. Quindi, se hai qualsiasi bisogno di controllare il tuo peso o vuoi una pelle fantastica, sicuramente vuoi provare questi prodotti. Ed una volta che li avrai provati, se non sarai convinto al 100% che siano i migliori prodotti del loro genere, potrai rimandare indietro le confezioni vuote per un rimborso completo. Non ti faremo alcuna domanda. Per solo 59,95 dollari puoi ottenere qualsiasi dei nostri prodotti Cambia Vita e confermare la tua posizione nella Powerline. E se vuoi altri prodotti, puoi addirittura ottenere fino a tre confezioni gratis quando ordini uno dei nostri pacchi assortiti. Poi, per appena altri 10 dollari, puoi diventare un fornitore e guadagnare commissioni illimitate nel nostro piano di retribuzione. Ti manderemo perfino il tuo personale kit affari in scatola per fornitore insieme ai Deplian, ai CD di addestramento, al materiale commerciale e altro. E il secondo aspetto di questo sistema che vogliamo che guardi è il poterti costruire un reddito nel tuo tempo libero, da casa. Pensa come ti senti adesso. Potresti anche non capire completamente come funziona il sistema, ma sai di non voler perdere un'occasione. Ora pensa a questo. Quanto è stato facile per la persona che ti ha invitato a fare una visita gratuita spiegarti questa opportunità? Probabilmente non ha dovuto fare molto. Questo è il potere di questo sistema. Non devi spiegare come funziona il sistema. Non devi conoscere il piano di retribuzione. Non devi rispondere a domande. Tutto ciò che dovrai fare è mandare persone sul tuo sito web e lasciare che questi video ed il sistema facciano il lavoro per te. Nessun'altra compagnia al mondo ha un sistema che funziona così. Non mi credi? Prova a toglierti di mente questo video. Non lo sto dicendo per farti unire alla nostra compagnia. Lo dico per sottolineare come i tuoi candidati si sentiranno quando lo vedono. Tu non vuoi una compagnia, un prodotto o un sistema a cui le persone dicano no e poi dimentichino. Tu ne vuoi uno che, anche se non vi si uniscono, non possano togliersi dalla testa. Di modo che, quando saranno pronti a fare un cambiamento nella propria vita ricorderanno il sistema, ricorderanno i prodotti e ricorderanno te. E si uniranno. E la parte migliore è che, quando lo faranno, verranno ricompensati. E così tu! Questo detto Giovedì è il giorno limite. Conferma la tua posizione oggi. Scegli quale dei nostri sorprendenti prodotti desideri provare e, una volta che ti sarai unito, assicurati di inserire i tuoi dati nella pagina My Earnings del tuo nuovo back office Skinny Bodycare per ricevere le tue commissioni. Ma ricorda, Giovedì è il giorno limite. Confermando la tua posizione oggi hai la garanzia di guadagnare una commissione sulle persone sotto di te nella powerline, che hanno effettuato un ordine. Ma se esiti, quelle persone balzeranno sopra di te e, se deciderai di unirti in seguito, saranno loro a venire pagati su di te, invece che te su di loro. Perciò non esitare. Conferma la tua posizione oggi. Benvenuto a bordo e congratulazioni!